vai comincio io ciao filippo sono stefano edel del mattino di padova senti la domanda viene spontanea buon sangue non mente papà è stato un grande difensore del passato tu sei dopo questo esordio in serie a con la salernitana che è andato bene anche da un certo punto di vita sei andato a como a como non hai avuto molta fortuna e sei arrivato qui qui hai giocato qualche partita all'inizio un po in difficoltà poi sei venuto fuori alla grande con due gol allora ti chiedo questo percorso parlandone anche con tuo padre è un percorso che ritieni giusto naturale e ovvio allora il paragone con papà è grande perché lui ha giocato ad altissimi livelli quindi ne devo fare di strada arrivavo da un'esperienza negativa come quella di como che è stata di una scarsissima gestione però oramai è passato quindi guardiamo avanti e arrivavo da grande in attività e da fuori se non sembra così ma ti puoi allenare quanto vuoi ma il campo il campo la domenica e la domenica e quindi le misure del campo la pressione della partita quando giochi per per il risultato per i tre punti e tutta un'altra cosa quindi io me lo aspettavo ero tranquillo anche quando ho fatto degli errori ero tranquillo perché sapevo che con il lavoro domenica dopo domenica e con la fiducia del mister della società sarei rientrati in condizione l'altra domanda e poi lascio i colleghi è questa si passa da una difesa a quattro dove hai giocato fino a maggio ad una difesa a tre come come ti senti sei preferisci la seconda della nuova formula oppure sei adattabile a tutte le due io ho sempre giocato difesa a tre quasi quasi sempre anzi sempre a quattro mi piace giocare a tre mi piace ancora di più perché mi reputo un giocatore aggressivo che gli piace andare a aggredire in avanti giocare lontano dalla porta quindi fare il braccetto di sinistra o di destra indifferente mi piace perché so di avere le spalle coperte di poter andare ad aggredire più alto possibile faccio una domanda io allora visto in attesa degli altri sono per paolo del gazzettino ciao bentornato torni a titolo definitivo che insomma un passaggio molto importante allora quanto è voluto questo trasferimento a titolo definitivo al padova visto che circolava voce che comunque c'era anche qualche altra possibilità allora mi reputo una persona che che ha dei grandi valori e per me dove ero riconosce sono stato riconoscente al mister e al direttore perché mi hanno preso in un momento di grande difficoltà dove non nego che mentalmente ero morto c'ero morto quindi ho pensato tante volte anche di mollare e loro mi hanno dato la possibilità di riniziare a giocare in un momento molto difficile della mia carriera quindi mi sentivo in grande debito con loro e mi hanno chiamato sono bastate due chiamate avevo anche altre offerte ma non ci ho pensato più di tanto volevo essere presente subito dall'inizio al ritiro e non è stata una trattativa difficile quindi poi mi sono trovato bene ho bisogno di ripartire da un progetto del genere una società seria e da persone serie come il direttore la società padua ciao filippo sono mattina moscato tele nuovo scusami mi inserisco in questo discorso scusa pierpaolo perché effettivamente si si è compreso fin da subito che hai voluto rimanere qui venire qui anche se c'erano delle difficoltà anche legate al contratto per il contratto di là immagino che anche una molla sia stata com'è terminata la scorsa stagione no che insomma c'era magari una voglia di rivincita di rivalza visto che siete usciti fondamentalmente per un errore clamoroso abbastanza insomma del direttore di gara con la virtus verona guarda sono stato male per me se addirittura non sono neanche andato a vedere le partite del pescara lo stadio perché la ferita era grande potevamo far molto di più e ingiustamente c'è stato tolto qualcosa quindi mi sentivo che potevo dare ancora di più a questa piazza a questa con questa maglia questi colori quindi è stata una scelta felice anche i soldi non sono stato un problema penso più al progetto che al lato economico perché sono giovane e spero di poter arrivare il più in alto possibile avere non attaccarmi ai soldi in questo momento ciao filippo bentornato sono carlo cecino del corriere del veneto ecco diciamo che quest'anno il palo sta un po rimodulando la difesa è arrivato crescenzi arriverà entri un altro giocatore tu quindi sei l'unico diciamo della vecchia difesa perciò senti di poter prendere anche il ruolo di leader difensivo in vista dell'anno prossimo ora io mi reputo un leader silenzioso che con gli atteggiamenti penso di essere uno di quelli che lavora sempre nell'ombra però alla fine è sempre lì è sempre presente che i compagni possono sempre contare su di me la domenica perché non mi tiro ma indietro crescenzi per quanto riguarda crescenzi che appena citato stiamo iniziando a lavorare insieme ci troviamo bene un giocatore comunque di grande esperienza ha vinto anche già due o tre campionati se non sbaglio quindi piano piano adesso ci dobbiamo conoscere sempre di più e sono sicuro che faremo un grandissimo lavoro e riposenti torno di nuovo io e dell'ascolta questo girone che si profilerà dovrebbe essere un girone meno difficile sulla carta di quello dell'anno scorso si parla di tre squadre che praticamente potrebbero contendersi la vittoria si sarà confermate si saranno confermate riscrizioni vicenza triestina e il padova ti chiedo secondo te sta nascendo un gruppo consapevole del fatto che si può come diceva il mister giocare questa volta veramente per vincere il campionato per quanto riguarda le tre squadre che hai citato anche l'anno scorso si diceva che il girone nostro non era quello più con meno squadre alla fine il lecco che era quella meno è arrivata in finale e ha vinto i playoff quindi la serie c è un campionato particolare dove cioè non contano le figurine chiamiamole così quindi per me il direttore in questo momento ha preso giocatori utili alla causa e soprattutto ragazzi seri stiamo lavorando bene e la consapevolezza c'è perché comunque sono tutti ragazzi bravi e quindi per me si può fare un grande lavoro adesso poi partiamo con il mister già da inizio ritiro siamo tutti insieme prima arrivano anche gli altri meglio è così possiamo costruire qualcosa di importante io volevo tornare su di te perché comunque anche firmato un triennale cioè oltre a essere tutto da definitivo quindi diciamo un progetto diciamo di lungo termine su di te avete impostato insieme col padova sei ancora giovanissimo e ancora a margine di crescita ma sono importanti quindi quali sono un po le tue aspettative da qui in avanti ora ti dico la verità io a queste cose non è che ci penso tanto c'è il mio procuratore che guarda l'aspetto contrattuale economico e io quando ho saputo che c'era la possibilità di tornare qua il direttore e il mister volevano che tornassi qua non sono stato più di tanto a pensare a anni soldi o cose varie quindi è stata una scelta di cuore è spontanea ma questo l'avevo capito l'avevi anche già detto era proprio a livello come come calciatore come dove pensi di poter migliorare diventare sempre più un punto di riferimento della difesa ma io guardo a quest'anno cioè spero di poter fare un campionato un grandissimo campionato insieme ai miei compagni perché no vincere il campionato e andarmi a giocare la possibilità di fare la serie b con questa maglia questo è il mio obiettivo nella mia testa poi bisogna metterlo in pratica con il lavoro ti faccio una domanda più dal punto di vista tattico tornando sul fatto che tu hai detto che hai sempre giocato a tre prima dell'anno scorso in pratica e ti piace aggredire l'avversario in avanti quindi ti chiedo intanto vorresti anche magari provare a fare anche qualche sgroppata ogni tanto aggiungere l'azione offensiva della squadra preferisci più rimanere anche al retrato guarda per caratteristiche non non sono uno che ha qualità offensive però può succede se il mister richiede determinate cose io posso mettermi tranquillamente a disposizione l'ho fatto quando giocava la juventus che giocavo di vela tre era una difesa molto particolare c'era sempre dai e vai dai e vai i braccietti erano molto offensivi l'ho già fatto non è un problema mi adatto a tutto sono un giocatore mi reputo una spugna un giocatore che si adatta molto alle situazioni quindi metto applicazione massia concentrazione in tutto quello che mi viene richiesto senti l'ultima cosa per me torno un attimo sul discorso di papà chiaramente io penso che ti abbia visto e che si confrò e che tutti i confronti con lui proprio perché hai detto giustamente che è stato un grande giocatore del passato dove secondo lui devi migliorare nel livello difensivo e secondo te quali sono i consigli che dovresti mettere in pratica quest'anno perché hai 24 anni sei nell'età giustissima per poter comunque rilanciarti alla grande una domanda scomoda ora ti dico la verità non ti saprei rispondere perché ci confrontiamo più sul sul calcio in generale più che su di me lui ovviamente sempre una parola me la dame la dice se viene a vedere raramente le partite potevi far così potevi fare questo però non è un tipo di genitore o che mi viene là e mi dice devi migliorare qua devi fare così e poi ovviamente è più sulla vita sull'extracalcio che mi dà aiuti sulla gestione delle cose per esempio cosa ti consiglia è per esempio lui mi consiglia cioè mi ha consigliato ma guarda se ti sei trovato bene comunque il direttore una persona seria il cui hai lavorato bene con il mister se te la senti vai non è uno che si impone o mi dice fai così fai questo fai quello che c'è abbia un rapporto molto particolare molto elastico tu sei figlio unico no una sorella più grande due fratellini più piccoli maschi tutti e due maschi tutti e due si si e giocano a calcio giocano tutti e due uno a sette anni uno otto uno fa il portiere l'altro attaccante ma sono piccoli non ho capito dove uno fa il portiere uno l'attaccante giocano al pescara ma sono piccoli hanno saputo ruolo non ho capito comunque la scuola calcio del pescara insomma dove c'è papà sono piccolini sono andato una volta a vederli sono proprio piccoli e la sorella non gioca o fa sport mia sorella si è abilitata per fare avvocato dieci giorni fa ha preso ha fatto l'ultimo l'esame per diventare proprio avvocato nella ministra che è bene quindi ti seguirà nelle trattative nei dopo nel ramo sportivo quindi e vedi che segue il papà e segue il fratello giustamente va bene dato che ci hai un po raccontato tutto di te chiudi il discorso cosa fai nel tempo libero con la sua ragazza hai trovato casa intanzitutto a padova e stiamo cercando guarda nel tempo libero dico la verità ci rilassiamo vediamo un film abbiamo un cane quindi passeggiamo con il cane una vita molto tranquilla sempre in base al calcio dai quando poi abbiamo qualche giorno libero ci muoviamo ma niente di che faccio una vita molto che cane un bulldog francese l'ultima cosa da parte mia padova è anche la società che ti ha dato il la gioia del primo gol tra i professionisti qui ha seguito anche il secondo bellissimo gol a a mantova e quindi insomma immagino che tu l'anno prossimo voglia anche ritoccare verso l'alto il bottino di gol segnati visto che dici che sei anche come dire un giocatore che ha aggressività no voglia di di andare avanti di lasciarti andare tanto dici ho le le spalle coperte no e l'altra cosa è se insomma un po forse ti mancherà valentini con cui avevi creato comunque un bel reparto una solidità dietro che però non è stato confermato insomma ti rispondo subito la domanda di valentini con vale oltre avere un grandissimo rapporto in campo penso che persone così nel mondo del calcio si fanno fatica a trovare una persona veramente per bene di cuore e mi sono trovato veramente bene a giocare con lui quindi mi è dispiaciuto ci sentiamo tuttora e quindi però il calcio è questo quindi si fa si va avanti adesso i compagni sono altri e lavoreremo al meglio anche con i nuovi compagni per quanto riguarda i gol c'è voglia di far bene c'è voglia di fare un'annata sia a livello collettivo ma anche individuale una grandissima annata quindi sono carico sono veramente carico e quindi